Cosa vedrai che ha degli strani baffi davanti che continuano a muoversi, per quelli sono col computer che li continuano a tenere bilanciato l'aereo. Se vuoi andare avanti in mezzo al prato, non mi... Se non c'è il computer che lo tiene... Però tienilo sotto mira adesso, perché sennò ti scappa. Come si può dire, è instabile, questo tende a ballare in continuazione. Sì, è italiana, è italianissimo. È forse la prima volta che abbiamo un caccia valido nella storia della nostra aviazione. Non è l'Eurofight, come si... Questo è l'Eurofight, sì. Che è un insieme... È un caccia, è un caccia. Ma dico, parla un insieme di progetti europei e europei. È un progetto più perito, è della guerra ferita, questo è l'ultimo caccia della guerra ferita. Dai, 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 dai! ищa la guerra ferita! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.